Gli scherani non hanno ancora finito di esultare, sono passati quattro giorni. Hanno appreso la notizia che l'Economist premia l'Italia come paese dell'anno 2021 e si sono dimenticati di osservare che l'Economist sia degli Agnelli. La situazione l'ha descritta benissimo il direttore di Radio Popolare, Alessandro Giglioli, sul suo profilo Facebook, in cui scrive «Vedo che il giornale torinese degli Agnelli Elkan e il giornale romano degli Agnelli Elkan aprono grondando entusiasmo per l'entusiasmo verso il governo del giornale londinese degli Agnelli Elkan. Se la cantano e se la suonano, tutto in famiglia, peraltro una gran bella famiglia», in cui il nonno, prima di morire, ha trafugato un miliardo di euro all'estero nascondendolo al fisco, ma anche alla figlia, che quando l'ha scoperto ha fatto causa al nipote, accusandolo di essersi preso tutto il malloppo, che poi il nipote è suo figlio. Quello che in questi giorni sta pensando a come licenziare il cugino, quello tonto che ha fatto i buffi col pallone. E buon Natale a tutti quanti. Circa un anno fa, nell'autunno del 2020, il numero di nuovi casi di ricoverate in terapia intensiva era più o meno come quello di oggi. A quel tempo il governo non c'era, il taumaturgo Draghi decise alle 18 l'orario di chiusura di bar e ristoranti e al 75% la percentuale di didattica a distanza per scuole medie superiori. Oggi il governo dei migliori invece ha poco margine di manovra. Dopo aver rinforzato il Green Pass si può ridurre la sua durata per spingere alla terza dosi, come probabilmente avverrà e poco altro. Ma se c'è concesso criticare, vale la pena sottolineare che Draghi ha deciso di decidere alla prossima cabina di regia del 23 dicembre. Curiosamente giusto in tempo per dare spazio agli acquisti natalizi, ma questo potrebbe essere solo un nostro sospetto troppo perfido. Ma nonostante molta stampa non se ne sia accorta, noi siamo già in ritardo il 23 dicembre. Scoprire la velocità con cui Omicron si sta diffondendo è un elemento che sarebbe stato forse utile un mese fa e forse sarebbe stato il caso di non aspettare due mesi che è il tempo trascorso tra l'indagine del 28 settembre e quella del 6 dicembre per muoversi. A proposito, il sequenziamento del virus avrebbe dovuto essere una priorità, priorità fallita. Se c'è concesso di criticare, varrebbe la pena sottolineare anche che se la durata del Green Pass verrà ridotta a sei mesi, serviranno 15 milioni di dosi subito nei primi giorni del 2022, perché scadranno 15 milioni di certificati. Oggi nei magazzini ce ne sono 5 milioni di Pfizer dovrebbe consegnare nel primo trimestre 10 milioni di dose, 10 più 5, 15 milioni. Però nel frattempo il governo punta a costringere alla vaccinazione anche i 6 milioni a cui manca ancora la prima dose. Insomma, i conti non tornano, per dire. Se c'è concesso criticare, la soluzione di rendere obbligatoria la mascherina all'aperto serve a poco, niente. Servirebbe un tracciamento serio, che è già saltato, come sempre. Servirebbe aver fatto qualcosa per trasporti e sanità. Tra l'altro, sulla sanità grida vendetta l'esiguo cumulo di soldi destinati dal PNRR. Servirebbe avere fatto qualcosa per la ventilazione nelle scuole. I liberali, che l'anno scorso starnazzavano, oggi dicono che il virus è imprevedibile e che non si possa fare meglio. Possiamo essere d'accordo, certo. Ma se ci è concesso criticare, osserviamo quindi la cretineria dei lamenti e i pianistei dello scorso anno. A meno che il virus non sia imprevedibile solo se c'è Draghi. A proposito, se ci è concesso criticare, si potrebbe ricordare che molta gente, molto stimata, molti mesi fa, aveva annunciato che vaccinando solo i ricchi e non tutte le persone del mondo, sarebbe successo quello che è successo. La variante Omicron non è figlia dei paesi poveri, come si legge in giro, ma è figlia della miopia e dell'egoismo e dell'ignoranza dei ricchi. Se ci è concesso criticare, notiamo come, ancora una volta, si stia pensando di funire la cultura, con soluzioni che appaiono di poco senso. Un tampone per stare in teatro o al cinema, dove è facilissimo mantenere le distanze, dove se ci pensate si sta tutto il tempo seduti, in silenzio, con la mascherina sempre in faccia, mentre non servono invece tamponi per sedersi in un bar o in un ristorante, dove per forza ci si doveva passare la mascherina per bere o per mangiare, è piuttosto indicativo. Insomma, la pandemia ovviamente è imprevedibile, ma il paraculismo è prevedibilissimo. Buon mercoledì.